Pallo di Brennan che ha spinto alle spalle Prati, calcio di punizione in favore dei campioni d'Italia. Corto Schnellinger verso Trappattoni, traversione di Trappattoni, toccato fuori aria da Fulc. Ripreso però da Lodetti, Trappattoni. Colpo di testa di Sormani, poi di Fulc, poi tiro di Fulc. Doppio tiro di Sormani, il primo è stato respinto da Fulc, sul secondo, Sormani ha fatto 5. Il Milan è in vantaggio al 33esimo minuto, ecco abbiamo rivisto, abbiamo rivisto il gol di Sormani. E' il 33esimo minuto del primo tempo, Milan 1, Manchester United 2-0, ha segnato Fulc. Lunga rincorsa di Prati, che nel primo tempo ha tirato una bella punizione parata dal portiere. Amrin, deviazione miracolosa di Kirkpatrick, rimette la palla in avanti Lodetti. Fogli, traversione al centro dell'aria, finta di Prati, tiro di Amrin. Amrin, un'altra piazza, bellissima trazione della Milan. Sì, a destra, iniziata da Lodetti. Sul cross di Lodetti, una stuta finta di Prati, ha consentito ad Amrin di tirare sulla sinistra del portiere. 2-0 per il Milan, è il terzo minuto del secondo tempo. Albor di Sormani, segnato al 33esimo del primo tempo, si è aggiunto ora quello di Amrin allo terzo della ripresa. Grazie. Grazie. Grazie.